Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come disabilitare o abilitare così il microfono della webcam quindi in questo caso se hai una webcam integrata nel portatile questo è lo stesso metodo che faremo con una webcam che abbiamo comprato e che abbiamo collegato a un computer o a un altro dispositivo quindi in questo caso se andiamo un attimo su impostazioni audio andiamo direttamente su altre impostazioni audio vai su registrazione questo qua è il microfono della webcam come puoi vedere io sto parlando però sto usando il microfono un altro microfono e questo qua è ancora attivo ovviamente ogni volta che andrai a staccare così il cavo usb della webcam e andrai a collegarlo di nuovo si attiverà così il microfono sulla webcam quindi fai su tasto destro sopra e fai disabilita e disabiliterai così quindi ha disabilitato il microfono della webcam ed eccolo qua per abilitarlo abilita disabilita e basta ovviamente come microfono fisso uso questo quindi metto predefinito questo qua e basta tutto qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come abilitare o disabilitare così il microfono di una webcam se vi dà un po' fastidio avere la webcam con un microfono attivo e state usando un altro microfono grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao